Il funzionamento del V-Chip è semplicissimo. Viene collocato sotto la pelle del bambino ed emette una lieve scarica elettrica quando viene pronunciata una scenità. Aspetti un momento, questo chip è in grado di riconoscere le parolacce? È come la macchina della verità. Ci sono certe reazioni quando si frega, come quando si mente. Il chip le rileva e dà al soggetto una punzacchiata. Paziente B5, puoi venire avanti per favore? Al paziente B5 è stato installato il nuovo V-Chip. Mi fa male la testa! Non preoccuparti Giovanotto, ora voglio che tu dica cagnolino. Cagnolino. Come notate non è accaduto nulla. Ora diciamo montana. Montene. Oh bene, e ora cuscino. Cuscino. Molto bene, ora voglio che tu dica tromba cavallo. Avanti Erika, è tutto a posto. Tromba cavallo. Cazzo! Merda! Ora voglio che tu dica grosso cazzo di muro flotto. Erika, il bambino non vuole più dire parolacce. E' tutto, figli riportati. La settimana prossima cominceremo a installare il V-Chip su tutti i nostri figli.